E se il green screen non fosse green, ma fosse blu, si può bucare lo stesso? Con tutti i software di editing, incluso l'UmaFusion, per esempio, si può. Non ci credete? Ecco qua. Chiaramente la qualità dei vari plug-in, diciamo, effetti di chroma key, che permettono di bucare anche uno schermo blu, sono diversi, evidentemente, no? Però devo dire che lo stesso l'UmaFusion fa un lavoro più che dignitoso. Premiere fa un lavoro, secondo me, ottimo. Il migliore in assoluto che io preferisco è sicuramente After Effects. Tra l'altro, dietro, distanziandosi il giusto dal fondale ed illuminando correttamente, come in questo caso, il soggetto, potete metterci veramente qualsiasi cosa. Foto, video, qualsiasi cosa. Ciao! 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 Grazie a tutti